sono alda del cuore della remax stella polare top producer remax italia dal 2005 il vostro miglior compagno di viaggio per voi che dovete vendere o acquistare casa siamo in uno dei parchi del quartiere riapigia dove vi porto oggi in via magna grecia lo so l'appartamento è in fase di completa ristrutturazione ma diventerà il vostro sogno siete già qui ma io non sono pronta sto realizzando un piccolo sogno per voi questa è una casa fortunata come è stata acquistata la proprietaria ha avuto il sogno della sua vita il lavoro che aspettava e quindi si deve trasferire ma io sto preparando una sorpresa per voi il sogno inizia da qui un ingresso con un salone doppio luminoso stanza da pranzo con cucina e comoda lavanderia capottiera per poi entrare in disimpegno con due camere da letto comode e due bagni di cui uno proprio in camera da letto e come lo concludiamo questo sogno con un bel affaccio su un viale alverato tanti servizi a portata di mano i teatri tra un po riapriranno è una bellissima vista mare mi raccomando affrettatevi o questo sarà il sogno di un altro